Presentata questa mattina presso la casa comunale di Agropoli l'app informativa spiaggia 2020 che consentirà di scegliere la spiaggia e darà altre informazioni utili ai cittadini in maniera totalmente gratuita. L'app darà la possibilità ai cittadini prima di lasciare casa di sapere in tempo reale l'affluenza sulle spiagge della città quindi potrà scegliere se vorrà una spiaggia rispetto a un'altra anche in base alle presenze. Grazie ai ragazzi del nostro servizio civile che monitorano gli ingressi e le uscite dalle spiagge infatti potrà verificare momento per momento quante persone stanno sulla spiaggia di Trentova piuttosto che sulla spiaggia dell'Alicina e piuttosto che sulla spiaggia del Lungovare quindi potrà scegliere anche sulla base di questo dove andare. Questo naturalmente aiuterà anche una distribuzione delle persone in maniera più equilibrata sulle spiagge evitando i picchi che sono poi il nemico che abbiamo in questo periodo. Il nemico che abbiamo è quello di evitare picchi di maggiore presenza ma questo servizio non si fermerà evidentemente perché l'app e il monitoraggio sarà il punto di partenza anche per il controllo perché un monitoraggio costante delle spiagge ci considera di capire quali sono i momenti di crisi, quando si creeranno gli assembramenti e noi in tempo reale avvertiremo la nostra Polizia Municipale che ha un progetto dedicato al controllo delle spiagge per intervenire qualora ci siano problemi di assembramento. L'app che è scaricabile da internet dal sito spiaggesan2020.it è scaricabile anche da Play Store con il cellulare Android ed è un'app che fornisce un'informazione in tempo reale sulla disponibilità, sulla capienza delle spiagge libere ed è un'informazione che viene data spiaggia per spiaggia. Con questo abbiamo dimensionato ogni spiaggia e l'app fornisce questa indicazione. Ovviamente mano a mano che le spiagge si riempiono la persona, l'utente potrà vedere se è più libera una spiaggia rispetto a un'altra e sceglierla. Oltre che c'è un servizio di avvisi che è stato implementato recentemente ed è molto utile anche con l'appoggio di Telegram come chi si collega, ha la possibilità di ricevere messaggi anche per quanto riguarda non solo la capienza ma anche quando si è raggiunto un limite, ma anche informazioni meteo, informazioni sulla possibilità, a volte le spiagge si riducono come dimensioni perché ci sono delle mareggiate, ci sono degli arretramenti di Arenil e quindi ovviamente questa informazione è data in tempo reale. È un servizio all'utente del tutto gratuito. In che modo i droni daranno il loro contributo? Cioè quale sarà l'azione proprio dal punto di vista pratico sulle spiagge in questo progetto? I droni non andranno a letere quello che è la privacy delle persone perché non ci saranno riprese che possono essere oggetti sensibili, ma saranno utilizzati per capire se ci sono delle difformità all'interno del flusso delle spiagge, ci sono dei momenti critici. Quindi è puramente di precauzione e di monitoraggio, tant'è vero che non verranno fatte le registrazioni ma verranno attivate le registrazioni solo nel caso ci sia necessità dopo l'autorizzazione delle forze dell'ordine o di chi fa nelle veci o della massima autorità come il sindaco o di un coordinatore delegato che in questo caso probabilmente sarà uno di noi con una specifica delega.